Un nuovo video sul mio canale. Io sono come sempre il vostro Magic Nozzo 93 e quest'oggi siamo sempre qui in compagnia su Magic The Gathering Arena. E oggi è venerdì, giusto? Sì. Oggi è venerdì e di conseguenza, come ogni venerdì, c'è l'FNM Atom. Questa settimana come evento diciamo lo standard, un semplicissimo FNM Atom dove puoi portare il tuo mazzo standard e giocare partite, quante partite vuoi, non c'è un numero massimo, né di vittoria né di sconfitte e c'è come ricompensa per ogni vittoria, due vittorie al massimo, una carta rara. Infatti vediamo due vittorie massimo e per ogni vittoria una carta almeno rara. Di conseguenza potrebbe eventualmente essere anche mitica. Io ho una maledizione verso questo evento, in quanto ogni singola volta non riesco mai a reperire delle carte vere e proprie ma mi vengono sempre date gemme, in quanto le carte che mi escono fuori le ho già in quattro copie. E questo capita, non dico sempre, ma nel 95% dei casi sì. La settimana scorsa, per esempio, su due vittorie ho preso addirittura, se non mi sbaglio, una carta rara che è... Cioè, ho preso 20 gemme dalla prima vittoria e la seconda vittoria ho preso una mitica che già avevo in quattro copie quindi 60 gemme in totale e 0 carte. Ora, non che le 60 gemme mi facciano letteralmente schifo, però, uno, non sono tanto utili perché non sono tantissime e due, preferirei avere carte rare o mitiche per ampliare la mia collezione. Quindi, va bene avere le gemme, però, preferirei ampliare la collezione con carte rare o mitiche che non ho. Vediamo se quest'oggi ci riusciamo. E, visto che l'evento è standard, porterò un nuovo mazzo che ho scovato. In realtà, è un mazzo che sto provando in tutte le forme e colori possibili. Il mazzo in questione, niente, è, se non, Four Color Iorion. Non si vede il quarto colore qui, nei simboli di mana, quindi sembra un comune sul tai, ma, in realtà, non è proprio un comune sul tai. È un Four Color, perché abbiamo uno e uno solo drop rosso nel mazzo. E codesto è Valky, God of Liars, o, per essere più precisi, il suo Planeswalker. Il Planeswalker, ovvero T-Balt, the Cosmic Impastor. Io penso che questo sia uno dei miei nuovi Planeswalker preferiti. Estremamente difficile da castare, perché costa ben sette mana, e in più può essere sottoposto a una serie infinita di counter, quando è in pila, quindi potrebbe tranquillamente non riuscire a toccare il campo di battaglia. Anche se l'op può impedirgli di toccarlo, è meglio, perché quando entra nel campo di battaglia, appena entra, appena tocca il campo, già fa qualcosa. Perché T-Balt, the Cosmic Impastor, quando entra nel campo di battaglia, ci crea un emblema. Appena entra, che dice che possiamo lanciare, anzi, possiamo giocare le carte esiliate con T-Balt, e spendere mana di qualsiasi colore per lanciare quelle magie. Questo vuol dire che, anche qualora T-Balt lasciasse il campo di battaglia, le carte che esiliamo con lui potremmo lanciarle fino alla fine della partita, oppure finché l'op non ci riesce a rimuovere l'emblema, cosa che in Magic non è possibile. L'emblema non si può togliere con né una magia. Non esistono magie in grado di togliere un emblema che dà un placewalker. Di conseguenza, l'emblema lo avremo per tutto il resto della partita. Le altre abilità di T-Balt sono comunque estremamente forti. Con più due, esilia la prima carta di ogni Grimorio, sia tuo che dell'opponent. Con meno tre, esilia una creatura o un artefatto, e con meno otto, esilia tutte le carte da tutti i cimiteri, e ci fa aggiungere tre mana rossi. Il che vuol dire che se T-Balt resta in campo, quando attiva la sua finisher, il meno otto, è pressoché vinta la partita. Un paio di volte mi è capitato di fare la sua finisher, con conseguente immediata concessione dell'opponent, perché avevo talmente tante cose da poter lanciare che avrei tranquillamente snobbato la mano per giocare con i cimiteri miei e dell'opponent. Quello che avevo in mano potevo tranquillamente non giocarlo, perché c'era di tutto nei cimiteri. Da Shark Typhoon, mi sembra che una volta ci trovai anche... feci un match dove trovai Shark Typhoon e era una Zeus Control, quindi la Dream Trawler, tante altre carte molto interessanti. Di conseguenza non mi serviva a niente la mano. e allorché quando aveva fatto il suo meno otto, l'oppo dopo un attimo ha concesso, perché effettivamente non poteva più riuscire a fare praticamente nulla. E' l'unico dropper rosso del mazzo ed è quello che fa diventare il mazzo un quattro colori. Spendiamo due paroline su Tybalt. Tybalt è molto interessante come planeswalker, un po' difficile da castare a mio avviso e soprattutto deve essere castato quando possiamo difenderlo a un minimo. Quindi se abbiamo la removal in mano per difenderci dalle creature e se abbiamo delle creature in campo per difenderci dalle altre creature che potrebbero attaccarlo. Magari anche con dei counter per poter riuscire magari a counterare una removal che l'oppo vuole fare nel suo turno. Altrimenti diventa difficile poi riuscire a usarlo come vera e propria win condition. Il mazzo secondo me dovrebbe... In realtà penso che le liste normali, diciamo, giocherebbero quattro copie di Valkyrie e Tybalt. Io ne ho soltanto due e ho pochissime rare mitiche quindi non mi posso permettere di farmarne altre due copie. Di conseguenza, quando giochiamo... quando decidiamo di giocare Tybalt, The Cosmic Impostor, dobbiamo essere sicuri comunque, un minimo sicuri, di riuscire a farlo restare in campo almeno un paio di turni. Almeno. Anche perché non sempre giocheremo Tybalt, perché anche Valkyrie, The God of Lies, è un'ottima carta. È una creatura 2-1 che entra con 2 e ci fa guardare la mano dell'avversario. Intanto, che è un'ottima cosa. In più, per ogni opponent, per ogni avversario, quindi uno in questo caso giocando in standard, esiliamo una creatura da quella mano. Poi, finché Valkyrie non lascia il campo di battaglia. Poi, tappando X, possiamo scegliere una creatura esiliata con Valky e Valkyrie diventa una copia di quella creatura. Tappando X, dove X è il costo di mano della creatura esiliata. Quindi, è anche magari bello fare Valkyrie di secondo, prendere un drop a 3 dalla mano dell'avversario e fare Valkyrie come creatura a turno 3. Cioè, far diventare Valky quella creatura a turno 3. Spesso e volentieri l'ho fatto e è una cosa molesta, in realtà. Dipende dalla creatura che prendi, ma spesso e volentieri è molesta come abilità. Quindi, non sempre ci trovereci... saremmo... a volte magari siamo, tra virgolette, costretti o forse è meglio giocare Valkyrie e quindi non giocheremo sicuramente Tibalt da quella copia lì. Da quella copia lì, insomma. E avendone solo due copie, se noi giochiamo un Valkyrie come creatura, ci resta soltanto un Valkyrie come Planeswalker. e se quest'unico Valkyrie che noi forse pescheremo e forse riusciremo a giocare ci resta in campo meno di un turno, capite che è qui che le quattro copie iniziano a diventare utili. Solo per questo. Avere le quattro copie utili sia per vederlo più spesso sia per appunto riuscire a giocarlo anche più spesso. perché Tibalt può essere distrutto e comunque potremo trovarci spesso e volentieri a dover giocare Valkyrie piuttosto che Tibalt. Quindi se avete a disposizione diverse wildcard da spendere fatene anche quattro copie. È un'ottima carta comunque. E un'altra cosa da dire su Valkyrie in questo mazzo è che non abbiamo la classica combo classica è anche tanto classica la combo che permette di ultimare Valkyrie nel turno stesso in cui lo giochiamo ovvero la combo con sul tie ultimatum infatti il mazzo non gioca sul tie ultimatum è un control più che un mid range quindi non riusciremo a fare ultimatum e a prenderci non so Valkyrie Vorinklex e Chiora Beast of Sea Gods anche perché poi spesso se vuoi volentieri l'oppo non sceglie quasi mai di farti entrare Valkyrie e Vorinklex in realtà quindi va bene solo un pazzo sceglierebbe di farti entrare Vorinklex e Valky però però a volte a volte capita e in quel caso riusciremo attenzione riusciremo castando prima Valkyrie e poi Vorinklex attenzione se giocate sul tie ultimatum e fate questa combo quindi sul tie che prende cioè ultimatum che prende Valkyrie Vorinklex e Chiora oppure Aldronse Epifani non lo so se l'oppo decide di farvi entrare Valkyrie e Vorinklex la cosa importante è far selezionare prima Valky e poi Vorinklex perché in caso contrario se selezionate prima Valkyrie e poi Valky in pila va prima Valky e poi Vorinklex quindi entra prima Valky e poi Vorinklex e Valky non entra con il doppio dei segnalini attenzione prima Valky e poi Vorinklex Vorinklex va per primo in pila entra in campo per primo come secondo entra Valky ed entra con 10 segnalini quindi possiamo già fare la finisher appena entra in campo ma questo non è il nostro caso non è questo il mazzo con quella combo non è un sul tie ultimatum è un a tutti gli effetti un for color control perché noi vogliamo giocare Valky vogliamo giocarlo cioè Thibald anzi al posto delle due copie di Valky che andrebbero messe io ho optato per un Ashok del Nightmare Muse perché perché è estremamente interessante in un mazzo di controllo ero indeciso fra questo Ash e Garruk The Cursed Antman ma Garruk non mi fa impazzire in questo tipo di mazzo quindi ho optato per due copie di Ashok che in un mazzo di controllo come molti sapremo saprete è molto giocato con il più uno creiamo un 2-3 token Nightmare blu e nero che ogni volta che attacca o blocca esilia due carte dalla cima del grimorio dell'avversario con meno 3 possiamo rimbalzare un permanente non terra in mano al suo proprietario quindi anche un nostro permanente volendo però poi quel giocatore esilia una carta dalla sua mano quindi non penso di averlo mai fatto su un mio permanente però è molto molto interessante soprattutto quando l'oppo ha 0 carte in mano e tu gli rimbalzi un permanente lui è costretto a scartare quel permanente lì anzi a esiliare quel permanente lì e poi il suo meno 7 è a tutti gli effetti una delle più forti win condition tra i planeswalker possiamo castare fino a 3 magie che l'avversario ha in esilio senza pagare il loro costo di mano e questo è uno spettacolo quando ti entrano 3 carte enormi grazie ad Ashok che le ha esiliate quasi sempre gli opponent concedono prima del suo meno 7 un po' come con Ugin diciamo ecco a proposito di Ugin stavo appunto pensando che ci starebbe bene anche Ugin in questo mazzo ma la versione la lista che ho visto io non lo giocava di conseguenza voglio anche staccarmi un po' dall'utilizzo pesante di Ugin e quindi detto va bene facciamo con due Ashok che secondo me è il planeswalker migliore per un mazzo di controllo di questo tipo se non altro quindi è a tutti gli effetti un mazzo di controllo giochiamo tre creature che sono Pollucranos e Valky tutto il resto è Removal e Control e qualche peschino ma adesso andiamo a vederlo un po' più nello specifico Iorion nostro fedele compagno 4-5 con volare quando entra in campo ci blinca i permanenti e tornano in campo stappati riattivando i loro effetti lo conosciamo Cling to Dust io l'ho messa in due copie per il semplice fatto che mi manca una copia di Mad Mind Home ma non volevo metterci altre removal volevo metterci un peschino pensavo a Glimpse for Freedom Glimpse of Freedom non mi ricordo come si chiama Glimpse Glimpse orco Glimpse of Freedom che è assai interessante a costo 2 peschiamo carta e poi tappando 3 e esiliando 5 carte dal cimitero possiamo usare escape e lanciarlo dal cimitero la cosa che mi ha spinto a giocare a mettere 2 copie di Cling to Dust è che Cling to Dust fa più cose 1 costa 1 e non 2 quando la lanciamo la prima volta e già aiuta costa 4 e 5 carte contro 3 e 5 carte quindi costa un male in più per fare escape però può fare più cose può farci pescare oppure guadagnare vite che in certi casi non ci fa schifo non ci fa per niente schifo poi 3 copie di Mads Mind Home questo ci sta assolutamente in un mazzo di controllo anche in 4 copie ovviamente ci fa fare scribe pescare carta fare vite è estremamente utile Valky ne abbiamo già parlato nel pre-video Heartless Act 4 copie distrugge una creatura senza segnalini o toglie fino a 3 segnalini da una creatura bersaglio eliminate spacca creatura costo 3 o inferiore o planeswalker e Home of the Sea fa pescare carta e scray 2 e se lo sacrifichiamo facciamo scray 2 4 copie di Negate Counter Target Non Creature Spell 4 copie di Jawari Disruption questo counter è diventato parecchio popolare nello standard perché è quel counter che in historic sarebbe il censor in historic molti matti giocano censor che fa la stessa cosa però mi sembra a 1 o a 2 non mi ricordo se costa 1 o 2 censor ho avuto il dubbio censor oh because historic historic why historic I want historic vabbè ok fa la stessa fa la stessa censor mi sembra sia costo 1 o costo 2 non mi ricordo però fa la stessa cosa counter la magia a meno che l'hop non paghi 1 quindi in historic quando capisci che l'hop sta giocando un mazzo di controllo ti aspetti che possa avere in mano il censor di conseguenza i tuoi drop più potenti tipo non so nissa facciamo per dire non la giocherai mai a turno 5 senza avere altro mana da usare per pagare eventualmente un censor appunto perché se lui ti fa censor ti countera uno dei pezzi più forti del mazzo con un semplice counter a 2 a 1 o a 2 non mi ricordo quanto costa e già uguale disruption fa la stessa cosa in modern a differenza di censor non può essere ciclato per pescare però è uguale l'hop deve stare attento a ciò che gioca perché se gioca qualcosa di grosso e potente tappandosi tutto e qui che entra in gioco già uguale disruption quindi è un ottimo counter come lo è anche dei dulfo stroke counter una magia con costo pari a 4 o superiore anche questa molto utile contro i planeswalker contro ujin contro le varie saghe o i vari incantesimi e contro quelle creature molto grosse che possono rompere le scatole contro le creature in realtà abbiamo molte risposte quindi magari è meglio usarlo su qualcosa che non sia una creatura però dipende dalla mano e da cosa siamo costretti a fare insomma soul shutter due copie anche questa un'ottima removal che costringe l'hop a sacrificare una creatura o un planeswalker con il costo di mana più alto tra le creature e i planeswalker che controlla se ovviamente lui ha in campo una creatura e un planeswalker può scegliere quale di due sacrificarsi il peggio è quando magari l'hoppo ha in campo un ujin e una dreamtroller e tu fai questa sperando che sacrifichi uno dei due ma quello per forza però in quel caso non è proprio non è bellissimo vedere in campo ujin e dreamtroller tutti insieme ma se l'hoppo ha in campo solo ujin o solo dreamtroller per esempio ho fatto un esempio a caso questa carta qui diventa molto molto utile ma comunque è una removal particolarmente forte toglie via tutte le creature o il planeswalker più molesti che possa avere l'opponente continuiamo con l'extinction event in due copie e scegli il pari o il dispari esili tutte le carte con tutte le creature con quel costo di mano binding e poi questa tanta roba sorry binding di all gods destroy target non land permanent un opponent control search a library for a forest card and put onto the battlefield tap and which is your control gains that touch until end of the turn allora il terzo effetto l'ho visto usare veramente poco anche se comunque è un effetto interessante non lo sfrutteremmo tanto in questo mazzo per il semplice motivo che non abbiamo molte creature anzi ne abbiamo pochissime di creature però i primi due effetti sono molto forti il primo effetto distrugge un permanente non terra qualsiasi che sia planeswalker che sia incantesimo che sia creatura che sia artefatto tutto tutto quello che non è terra molto forte a costo 4 e il secondo effetto ci fa prendere terra foresta dal mazzo quindi di sicuro prenderemo uno dei nostri triomi o eventualmente un sì direi un trioma senza pensarci due volte e e quindi faremo vantaggio di terre giocheremo due terre in quel turno lì o se non abbiamo terra in mano giocheremo terra senza saltare il land drop molto utile come saga è giocata in 4 copie in qualunque mazzo giochi questi due colori assolutamente una copia di Pollucranos Unchained ci sta assolutamente perché perché soprattutto nei matchup contro magari il rogue questa carta diventa estremamente estremamente molesta ma a prescindere anche contro altri tipi di matchup questa carta comunque può rientrare ogni quanto vuole più o meno dal cimitero mettendolo in grande pressione perché quando entra in campo è un 6-6 perché entra con 6 segnalini più o più uno ma quando fugge fugge con 12 segnalini più o più uno it's not bad it's not bad in più se una fonte gli sta per infliggere danno noi preverremo quel danno e togliamo altrettanti segnalini da Pollucranos a costo 3 tappando 3 possiamo farlo combattere con un'altra creatura che non controlliamo e poi fugge con 6 e 6 carte dal cimitero neanche così tanto costoso fugge a una carta in più rispetto a clean to dust o rispetto a croxa fugge con 4 insieme a croxa o con 5 con 4 con 4 quindi però ti entra un 12-12 ecco lui Valky e Ashok sono le ragioni per la quale vorrei vorrei inserirci una copia magari soltanto una di Voringlex in questo mazzo perché fare Voringlex di sesto e poi giocare magari di settimo Tibalt ci permetterebbe di ultimare direttamente Tibalt oppure magari fare Voringlex di sesto turno e poi magari non so magari perché ci è morto nei turni primi o ce l'hanno scartato non lo so fare Polucanos che rientra con il doppio dei segnalini raga se Polucanos entra in campo con Voringlex cioè con Voringlex in campo rientra come 24 24 perché Voringlex dice che se stai per mettere dei segnalini su una creatura su un permanente anzi gli ne metti il doppio di conseguenza 12 il doppio è 24 quindi una copia ce la vorrei giocare ma non lo so magari togliendo questo Cling to Dust in due copie cioè togliendo una copia di Cling to Dust e mettendoci un Voringlex ma non lo so vediamo come va vediamo come va però Voringlex in un mazzo dove giochi planeswalker o dove giochi creature che possono prendere segnalini è molto forte di conseguenza lo volevo provare anche in un altro mazzo che era Celestia Celestia Counters anche lì in un paio di copie ma ci devo un attimo lavorare su a parte Voringlex abbiamo Ashok Nightmare Muse in due copie per sostituire appunto le quattro di Teebles e due copie di Shadows Verdict io adoro adoro questa removal è pazzesca contro certi mazzi è praticamente l'equivalente di una Wind Condition perché esilia tutte le creature e tutti i planeswalker con un costo di mano a pari a tre o inferiore dal campo di battaglia e dal cimitero da ogni cimitero a noi non ci importa perché di creatura a due abbiamo soltanto Valky anche se togliamo uno dal cimitero non ci importa più di tanto ma quando siamo contro mazzi tipo Monored Monogreen Mono Boros Agro Celestine Adventure insomma contro molti mazzi Monored per esempio è molto molesta contro Rogue ragazzi questa qua è devastante proprio devastante e poi ovviamente come non giocare la principale o incondition di un mazzo del genere ovvero Shark Typhoon Oppure possiamo ciclarlo pagando X più 2 e creeremo uno Shark XX blu con volare questa è ovviamente la principale wincon di questo mazzo e poi una pletora di terre 32 per essere precisi più i 4 giaguari che potrebbero entrare come terra portando il tutto a 36 ipotetica ipotetica I'm drinking some Amaro Montenegro sapore vero comunque il mazzo gioca 32 terre 36 ipotetica ovvero due island tre swamp una singola mountain non la volevo giocare in realtà ho visto delle liste migliori se vogliamo migliori perché a me la mountain base non mi fa impazzire forse la toglierò per giocare dei pathway i pathway quelli che potrebbero entrare come rosso o nero per esempio o quello che può entrare come rosso o verde perché perché se ci servisse il verde mettiamo giù il pathway come verde ma qualora ci servisse il rosso per castare tibalt allora metteremo giù il pathway come rosso però al momento la proviamo così una montagna per lanciare tibalt abbiamo una montagna e tre catria che ci dà rosso per tibalt blu e verde che si ave per il mazzo al momento la proviamo così poi vediamo un attimo come come va quindi una montagna due isole quattro clear water pathway se ne avete mettete quattro dark board pathway io mi manca l'ultima copia devo in realtà la vorrei trovare dalle buste invece che farmarla però sto parsimuliando le rare quindi vediamo se non la trovo dalle buste la farmerò al momento ne giochiamo tre e due temple of melody idem per il bark channel pathway tre copie e due temple of mystery in realtà se avessi tutti i pathway toglierei i temple of melody e i temple of mystery per giocare una copia in più del pathway di questo e di questo e per giocare due tre omi in più uno zagot e un ketria però non ho né le quattro copie dei tre omi né quelle dei pathway per cui giochiamo con il temple of melody e the of mystery se avete i set completi togliete i temple mettete quattro pathway quattro pathway quattro tetria e quattro zagot oppure ho visto anche le liste giocare per esempio un come ci chiamano un black step pathway che da rosso e nero quindi possiamo giocare il rosso quando dobbiamo castare valky e il nero quando non ci serve il rosso per esempio oppure giocare anche per esempio il crack room pathway che ci da rosso o verde quindi se se dobbiamo castare valky metteremo giù rosso altrimenti possiamo anche prendere il verde insomma vedete voi un po' come gestire la land base io adesso la provo così poi nel caso farò due o tre modifiche alla land base abbiamo comunque diversi modi per prenderci le nostre terre rosse ovvero il fervor passage per prenderci la nostra montagna di base e il binding di old gods ci permette di prendere foresta di conseguenza potremmo prendere il chetria per giocare poi valky e altre cose quindi il mazzo è questo lo proveremo nello standard event e poi magari facciamo qualche partita al di fuori di questo quindi sub mettiamo questo sub mit sub mit and let's play some magics let's play some magics ok è un mazzo che richiede il suo tempo io come dico sempre non sono il maestro dei mazzi di controllo ma voglio giocare nei più possibili per imparare la mentalità la meccanica ok già qui quel temple of mystery ci rompe i maroni perché la mano la teniamo perché c'è tomo c'è ashock eccetera eccetera però siamo un po' lenti questo temple of mystery poteva benissimo essere un trioma di chetria o un o un come si chiama o un pathway stappato per cui vabbè insomma ehm vorrei fare una scagliatina qua in realtà vediamo cosa c'è dietro ok adres acta ci piace ah però discard a card we need negate i don't know what what is this deck i don't know just discard negate maybe i don't know we can go for trium we can go for metmine tom yes try they have one two one two three four damage oh three colors oh it's up oh they have something to negate they play something to negate hmm interesting oh it's a party cleric elf and rogue no cleric warrior and rogue wow nice it's nice very nice it's abdan party nice it's a land yeah because we need we need five land for Ashok it's fine we need a black i think do we want to destroy this i think i go for artless act now because they might have something to give x-proof on tas 3 so i think yeah and we can draw a card with metmine tom oh what because for a stupid removal dai il marzo mi stava piacendo perché ha concesso ha fatto una gran giocata prima comunque ha giocato coveted prides carta che ho tipo in 4 copie non ho mai giocato e non ho neanche mai visto giocarla comunque pochissime volte è molto bella costa 1 in meno per ogni carta nel tuo party lui era a turno a turno 3 si no a turno 2 aveva messo giù già 3 creature del party perché a turno 1 ha fatto questo con un mana a turno 2 un mana ha fatto questo ha tappato 1 e 2 più lui e ha fatto questo quindi cleric warrior e rogue è una bella rampata in realtà carte non tanto forti in realtà però cazzo c'era poi di di terzo ha fatto ha fatto prize a 2 perché aveva 3 creature del party 1, 2, 3 e ha fatto ha fatto prize a 2 e beacon of unity a 2 anzi no a 3 1 ha tappato 2 per fare queste qua per fare per prendersi lui dal mazzo tramite prize ha messo lui in mano si grazie a questo qua che è un tutore praticamente e poi a costo 3 no a costo 2 a costo 2 no 3 4 5 1 2 3 si a costo 3 a costo 2 no a costo 2 è riuscito a mettere giù anche buzzery ha tappato 1 più loro 2 ha fatto un mana e a 2 ha messo giù buzzery cioè tasery beh ha fatto un bel turno 4 un bel turno 3 ha fatto comunque cioè non so cosa che sei male forse niente di utile a quanto pare però non era un brutto turno 3 secondo me però va bene va bene va bene negate si rivelava utile in quel caso oh it's a card oh it's incredible what is this subira what is this what is this subira tutti di caravanner io piango quando prendo le rare sono rare che fanno cagare io piango giuro oddio cagare forse no però cazzo di carta giusto un mono red può giocare sta carta e non l'ho mai vista giocare in mono red no in realtà in realtà in realtà qualche volta l'ho vista giocare in mono red ma poche volte e comunque questa qui la vedevo giocare in un mazzo in particolare questa qua la vedevo giocare in particolar modo nel mazzo con cavalcade of calamity e ha anche molto senso con cavalcade of calamity oppure con quell'altro enchantment che ogni volta che una creatura ride bombardment che ogni volta che una creatura con forza due o inferiore attacca fa un danno all'avversario quel tipo di mazzo ha molto senso perché uno perché ha aste quindi entra e attacca se hai bombardment già in campo fa anche danno all'opponent non danno in più e in più da quando uno le creature con forza due o inferiore non possono essere bloccate i mazzi con cavalcade of calamity e ride bombardment giocano penso solo creature con forza due o inferiore perché vogliono vincere soprattutto di bombardment o di cavalcade c'è da dire che il suo secondo effetto non è male perché possiamo tappare due tappare lei e scartare la nostra mano e poi fino alla fine del turno ogni volta che una creatura che controlliamo con forza due o inferiore fa danno da combattimento all'avversario peschiamo una carta quindi se abbiamo zero carte in mano scartiamo zero carte praticamente e e poi peschiamo tot carte in base a quanti danni riusciamo a fare non è una brutta carta però speravo in qualcos'altro devo essere sincero speravo in qualcos'altro ma va bene va bene ok va bene non ci accontentiamo va bene va bene oppure goes first oh against l'urrus i don't know we have only three lands but one is jawari this dude from stroke against rogues only for into the story i think i mulligan oh this is much better much better the tomo the heartless act i don't know tomo non c'entra non c'entra di secondo con questa mano che abbiamo forse una sfranzata trovo quanto rogge voglio ottenere minera e muovere in mano proviamo così proviamo così just cry they milled this because they have enforcer of course and the nautilus act nice oh the ash arc is in the graveyard i think i heartless act these now because if they have a counter they can counter my acts i think i'll do it now they still full stroke non è un gran che contro rogge giusto possiamo conterargli giusto forse aga demon's awakening no perché è a tre aga demon's awakening oh we have valky we have valky and the land to play valky do we want to play valky i don't know because they have many removals and counters in hand one two three four lands castare castare tibalt non è semplice contro un mazzo del genere ok lo tengo in mano voglio provare a castarlo va bene vai just shuffle the deck we need oh it's a tree now ok sad i think we don't need the red i think we need the black due due quattro we can shark for two we can do extinction no i think not ok just pass another enforcer ok two lands on the top you save your passage because you want to draw oh you're stupid they milled three lands in a row three lands you are incredible they want to go into the story maybe i don't know hope not hope not use your alt let's act due quattro cinque we can go for cling to dust maybe one two three four they have some counters in it we need to taunt something two counters my graveyard exile ashyak try to be in ding if they have something to breathe bring back like lurus yeah bring the zagot because we have the red source for t-bolt due quattro cinque we have five mana i think we can just go for green we have three green and one two three four go for green ok uno due tre quattro cinque six mana no counters to defend the valky but we can play valky take lujus maybe take valky play valky i don't know i don't know nah just pass they play the lurus they play the lurus ok ok mutiamo questo signore perché mi ha già fatto le scatole oh we have seven no you have six no seven in the graveyard we have eight mana what we want to do with eight mana i have only mass removal and valky i don't want to lose my valky i think i go for take yorion and pass the turn and pass the turn no 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 i want to draw sorry 2 4 6 8 9 we have only you want counters questo è il motivo per il quale voglio avere quattro copie di valky per la miseriaccia 1 2 3 4 5 6 7 but if they have a counter and they have a counter i'll go i like both i like both what you serious you have something to to destroy my shark typhoon no you are wow okay and just try to play the jordan maybe i want to play valky i want valky on the battlefield uno due tre quattro we need four mana i think it's better with bending the old gods on the battlefield maybe just try if they want to if they want to counter something i think they counter this are you serious okay we destroy nothing maybe it was better the next turn yeah maybe it was better yeah okay he died of course loose so i think i'll try for for valky here maybe shadow's verdict no shadow's verdict no two eight quattro six eight nine we have nine mana she was a set try they counter it of course it's okay we have another one wow it enters oh Sì, credo che io passi. Ho eliminato uno mine di mio opponent. Ho tutto. E T-Bolt è in la battlefield. Oh my gosh, è incredibile. È incredibile, ma... They have Blushifters, ok. But we have the emblems, so I think I go for... I'm now with a C now. Uh, yep. The mountain doesn't... We don't need a mountain. We need blue or green, I think. Blue or... I think I go for blue. Ok, attack first. They have Death Touch, so it's fine. Um... One more T-Bolt. And they concede. Wow! Go away, Rogue. Stay away from me, Rogue. Stay away from me. Ha, ha, ha. What you can do? Oh, Jesus. T-Bolt is so powerful. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh, Jesus. T-Bolt is so powerful. Non pensavo che mi entrasse nulla di tutto ciò, raga. Cioè, Shark Typhoon è entrato senza problemi. Io... Forse l'ho sbagliato... Anzi, senza forse. Ho sbagliato sul blinkarmi Yorion subito. Cioè, potevo aspettare il turno... Poi prendere doppia terra con binding e poi fare... Cioè, potevo prendere terra con binding di Old Gods, fare poi Yorion e riblinkarmelo un'altra volta. Vabbè, so. Va bene. Va bene così. Fa lo stesso. Fa lo stesso. Si, in effetti non è stata la migliore giocata del mondo quella lì. Lo ammetto. Dovevamo aspettare il turno dopo per fare Yorion. Ma va bene. T-Bolt the cosmic imposter. E, visto, abbiamo fatto bene ad aspettare... Oh, un'altra carta! Oh, oggi... Oh! It's a giant killer! Ok, questo mi piace. Mi piace perché questa va a completare il set di giant killer. Ora ho quattro copie di giant killer. Evviva! Evviva, evviva, evviva! Oh, questa mi è piaciuta. Va bene. Questa ci sta. Ci sta. Va bene. Sono contento. Sono contento. Di T-Bolt. Di... Sia di T-Bolt che di... Che di tutto il resto. Comunque questo rogue è stato parecchio remissivo. Ci sono entrate molte cose che non pensavo che entrassero. Il primo binding di Old Gods non pensavo che entrasse. Sicuramente. Shark Typhoon non pensavo sicuramente che sarebbe entrato. Yorion oppure il primo T-Bolt neanche. Ok che avevi... Aveva Blow Shift Thirst. Ma io personalmente l'avrei counterato il primo T-Bolt che è entrato. Perché già... Già è molesto. Perché ti dà già l'emblema appena entra in campo. Per cui le carte che tu ti esili con il suo più due. Già puoi lanciarle quando vuoi. Quindi... Mh. 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 Inzomma. Comunque. Mi aspettavo sicuramente il counter su Shark Typhoon. Rogue che non countera Shark Typhoon. Mh. O non hai il counter in mano. Il che... È strano. È difficile. Ma può capitare. Oppure... Non lo hai counterato apposta. E lì hai sicuramente sbagliato. Perché Shark Typhoon va counterato. Secondo me. Perché ti crea troppi... Bloccanti. Abbiamo visto... Abbiamo visto Cling to Dust al momento giusto. In realtà quando... Abbiamo tolto carte dal cimitero. Abbiamo pescato un sacco. Quindi... Ci è stato utile Cling to Dust. È un mazzo particolarmente interessante questo. Molto 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 interessante. Due win... Due partite e due vittorie. 100% win rate al momento. Eh... Eh... No. Sì sì no. Sì. Due due. Direi di sì. Due due ha fatto al momento. Non mi ricordo. Un attimo che andiamo a vedere... Le statistiche. Ma perché ne appaiono mazzi che non gioco da anni nelle statistiche? Che senso ha? E in modo non lo trovo. Ma com'è possibile questa cosa? Ah no. Forse... Forse ho una motiva... Ho una spiegazione al riguardo. I mazzi nuovi che crei... Se tu crei un mazzo tipo... Adesso. Ecco. Fatti qua. For color... For color... È in fondo perché non ha... Non ha... Non è ancora stato registrato secondo me. Mi verrebbe da dire. Last update 12 febbraio. Quindi oggi. Forse deve... Forse deve un attimo... Non lo so. Deve ristartarsi. Non lo so. Vabbè. Comunque. Penso che sia due due attualmente il... Il win rate. Passiamo in qualche altra partitina. Proviamo a trovare... Proviamo un po' sto mazzo. Non ci vuole di rancare stasera. Forse dopo. Non lo so. Non vuole di giocare tranquillamente. Stasera. Vediamo un po' cosa ci riserva... La mano è buona. Sta... Si tiene. Non lo so. Oh, è Monoblue Snow. Nice! Anche questo qua è un mazzo che sta girando un bel po'. Monoblue Snow. non può attivare il suo effetto e non ha due permanenti neve la seconda terra che ha messo giù è un castellar den valle do we want to stay open for something I think yeah we take black from here and we can pass the turn I think I don't want to play Valky now because I have two pindies of the old gods then it means two lands for this now they can they can transform ascendant spirit spirit what do you do one more spirit one more spirit of course of course of course play nothing else do we want to play this tapped because on turn four we can do bending the old gods oh maybe I don't want to play Valky I want to I want the T-Bolt I want the T-Bolt ah no but devo farlo vabbè ho bagato try to bend I think they counter it but it's okay I think they counter it but it's okay try it's shortcoming okay sure you can transform your spirit in a warrior angel now it's a 4-4 base power and fogness they might be have another counter if they pay four it becomes plus one draw a card it's a 4-4 base power just pass the turn it's okay we can do this whole shutter now maybe and not heartless act if you want to draw you need to tap your land now right here right now maybe heartless act was better but I think they have no many big creatures in this deck they choose to sacrifice okay sure oh one two three four we can try to bend do we have the blue let's see okay destroy and just pass the turn do a 4-7 we need one land to bulky but they have counters they play many counters so it coming is only one of their counters how many counters do you have in your hand my friend how many we can take this we have we have the red for for bulky not a problem I think I go for Tome and Yorion was not better in this case to blink this but they have nothing play the Tome see if they want to counter this and just take Yorion just I want to draw another sect okay just pass you want to scry with your castle maybe you want to scry scry with your cast and hard and valley or have flash to do you Eh, quando vorresti vedere un counter, cazzo, non ho di counter nel mazzo, ho solo removal. Ho solo, ne ho tanti di counter per questa magia qua, eh. C'è, non un casino di counter. Anche perché è tutto tappato, vabbè, è anche Jaguar Disruption, che vabbè, l'ho messo giù però. Insomma. Scraia X e pesca 3 carte. Mamma mia. Scraia 4 e pesca 3. Gran pescata questa. I think we can't resolve the Valky. It's really hard to do this too. Oh, Jesus. Oh. But now we can cast the... Oh. Oh. 2, 4, 6, 7. We can go for Typhoon. And next turn, Valky. Or directly Valky. Because I target Artifact or Creator. This is an enchantment. Oh, I don't know here. I don't know. Try. Okay. Hard casting Valky. Maybe casting Shark Typhoon was better? I don't know. I don't know. I don't know. Non mi ricordo cosa possa avere per togliermi qualche dal campo. Forse Braden Borrower. Maybe. Maybe a Borrower? I don't remember if that deck plays a Borrower. My gosh. Double. Typhoon. Wow. Wow. Really wow. I have Heartless Act. I want to scry here. Oh. This. That's so... Just stay there. Okay. If they have another big drop, we can counter. We need the blue. We have 1, 2, 3, 4 blue. 1, 2, 3 green. I don't have green in my hand. So I think I go for blue. Yeah. Plus 2. Oh. We have a sword coming. Nice. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 8. E 1, 9. We can cast the Typhoon. If they try to cast something, I have Sword It Coming. If they attack this, I have Heartless Act. I can destroy this. As if they counter, Heartless Act. Not easy. Maybe Shark before the T-Bot was better. Maybe. I don't know. If they try to cast another Shark Typhoon, You can go for Sword It Coming. Create a 3, 3. Grazie. I don't know. They might have another Bradenborrower. They might have another Bradenborrower or another bouncer. They attack with a 6-6 of course. Can we ultimate the T-Bolt? What?! What?! Please! Let me ultimate T-Bolt! Why you concede? You have double Shark Typhoon on the battlefield. Come on! Why?! Tell me! With double Shark Typhoon on the battlefield, why you concede? Tell me, my friend! Why?! My gosh! You have double Shark Typhoon on the battlefield! Okay! The minus eight of T-Bolt is come for you, but... Come on! I have nothing special on the graveyard! I have only removed! I can cut so many things from the graveyard! It's okay, but... Come on! Come on! I have nothing special on the battlefield! So... Maybe... It was not a bad decision! Maybe... Maybe... ... 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 13 mana! Potevo lanciare di tutto! Di tutto! Potevo lanciare con 13 mana! Everything! In sicuro avrei fatto doppio binding di Old Gods! E sono 8! Uno che gli entrava, sì, ma l'altro per me gli entrava quasi sicuramente! Quindi... Uno Shark Typhoon andava a farsi benedire! Secondo me! Degondo me! E... Io creavo comunque 2, 4, 4! Che non era male! E poi ci restavano comunque 8, allora 13! Ci restavano 5 mana! Con cui potevamo fare pressoché qualunque cosa! Con 5 mana... Boh! Potevamo... Non lo so! 5 mana potevamo... Doppio Heartless Act! Non lo so! Clean to Dust no! Perché Clean to Dust in questo caso non ci... Non ci era utile perché le cose dal cimitero dovevamo rilanciarle! Beh, potevamo rilanciare Clean to Dust! È vero! Sì! Certo! Con 5 mana potevamo fare doppio Heartless Act oppure un Heartless Act E... Fanno 2, fanno 2, fanno 6, 6... Lanciare King Blast, fanno 1... E scala... E poi un 2 mana open... E si vede per Mato... Esatto! E un Dazdulfo Stroke nel suo turno! Easy peasy squeezy! Maybe casting T-Ball before Shark Typhoon was not a bad decision! Perché noi potevamo anche castare Shark Typhoon quando lui si è tappato per castare Shark Typhoon! Comunque incredibile! Quando servono i counter... Non li hai mai! Comunque... Potevamo castare Shark Typhoon sul suo Shark Typhoon! Solo che... Dopo... Avevo paura che T-Ball non entrasse più! Perché poi lui che stava a Shark Typhoon stava open per i counter... E... Per almeno un counter... Ok? E quindi lui non sarebbe mai entrato! È vero che con l'oppo che mette giù Shark Typhoon, mettere giù un nostro Shark Typhoon ci dà comunque una mano! Perché anche se lui non entrava in campo... Comunque creavamo un 7-7 volante! È vero! Sì! Forse ho riscatto! Forse dovevo fare il contrario! C'è la prima Shark Typhoon e poi T-Ball! Anche il counter sempre aveva un 3 perché magari usava su upcoming! Io però creavo un 7-7 di risposta! Quindi... Mmm! Con tutte queste immagini in mano forse effettivamente... E un altro T-Ball in mano... Forse effettivamente... Potevo fare il contrario forse! Ma volevo T-Ball on the battlefield! Ho approfittato del fatto che l'oppo era tappato per lanciare Shark Typhoon! E quindi... Mi sono... Mi sono... Mi sono... Mi ha invogliato a lanciare T-Ball, diciamo! Ma come on! Let me do... It's minus 8! Bastard! Bastard! 100% win rate! Oh! This deck is crazy! I like this deck so much! Comunque anche il deck che abbiamo contro non è un brutto mazzo eh! Ho visto anche delle liste su YouTube di sto mazzo su MTG Goldfish! Ho visto... Varie liste di questo mazzo... Tutte uguali in realtà più o meno! Però... Però è un mazzo interessante eh! Anche perché gioca quello spirito che... Uh! Bella! Busta! Anche perché gioca uno spirito, quell'1-1 che ha giocato a turno 1 che non è per niente male! E' interessante! Ciao! 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 In genere aspetto sempre domenica per aprire i pacchi, perché accumulo più gold, faccio più roba, no? Chiazza me ne frega. We have 2400 gem. Gold. Allora, ragazzi, nell'ultima volta che ho aperto una busta di Teros, mi è uscito un Chiora Beast of Sea Gods. Che la seconda copia, che volevo da non so quanto tempo, magari anche stavolta... Una mitica! Mamma mia, ragazzi. Quattro mitiche più due del vault sono sei. Attenzione. Cazzo, le buste di Teros dal pass fanno fulore. L'ultima volta Chiora e questa volta una mitica, una wild card mitica. Mamma mia. Incredibile. Spettacolo vivente. Bellissimo. Ok. Ci sta. Che cosa abbiamo? Oh! Finalmente! La seconda copia di Ragtus Valkyre. 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 Due quattro con volare. Whenever another angel or cleric enter the battle of it under your control, you gain life equal to that creature's darkness. And, as long as you have at least seven life more than your starting life total, creature's you control gets plus two, plus two. Questa la voglio troppo giocare in clerics. Because this is crazy in clerics. Whenever scomba maledettamente bene con lo speaker of the heavens. Perché lo speaker of the heavens, a parte che è un chierico, l'effetto di speaker of the heavens si basa sempre sul fatto che tu abbia sette o più punti vita dei punti vita iniziali. Quindi 27, ok? Il coso, lo speaker of the heavens, quando hai 27 punti vita, lo puoi tappare e creare degli angeli 4-4. Lui, quando hai sette o più punti vita, le tue creature prendono più due, più due. Il che vuol dire che se tu hai 27 punti vita più Valkyria e speaker of the heavens in campo, tu tappi speaker, crei angelo. Angelo ti fa fare intra che è un 6-6 perché hai già sette punti vita in più. Fai sei punti vita e in più hai un 6-6 angelo che ti è entrato in campo a gratis. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Se non fosse che viene distrutto da quantitativo di removal pazzesco, è una carta bellissima. La volevo, ci sta, ok. Potremmo anche iniziare a pensare di fare un chierici. Ne ho due di copia di quella carta di me, se vi ebbero quattro. Oh, bebebebebebebebebebebebebe. Vabbè, ma stasera, eh beh, ma stasera, ragazzi, eh, eh, ma stasera, che cos'è? Che cos'è? Natale stasera. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. oh, due wild card mitiche e una carta rara che mi serviva oggi stiamo sbancando oggi stiamo sbancando ah, tre mitiche un Thoralf God of Fury mamma mia, tre carte mitiche in tre buste no, in quattro buste no, sì no, sì quattro buste, tre mitiche e una rara vabbè, la rara c'è sempre però un quattro buste, tre mitiche wow Thoralf, non so che farm in realtà della seconda copia ne ho già una che ho preso in draft però non so che farm della seconda copia devo trovarci un modo di giocare più copie in un mazzo di sta carta è interessante come carta quello lì, il dio rosso oh, Death Blessing of Frost ne ho già, penso, una copia di questa ma è molto utile la voglio giocare voglio adesso voglio aggiornare Celestia Counters perché sono uscite delle carte tipo questa che è molto interessante costo quattro snow sorcery distribuita x plus one plus one counters among any number of creatures you control where x is the amount of snow mana spent to cast this spell then draw a card for each creature you control with power four greater questa è molto bella distribuiremo praticamente quattro segnalini perché comunque costa quattro se spendiamo quattro mana nevi per lanciarla metteremo quattro più uno più uno distribuiti come ci pare a noi sulle creature il bello di giocare in un mazzo come Celestia Counters è che Celestia Counters ha diversi modi per aumentare il numero di segnalini che noi mettiamo sulle creature tipo il drop a 2 che mi sfugge il nome vabbè non mi ricordo il nome che ogni volta che mettiamo un segnalino ne mettiamo uno in più quindi con questa qua e quel drop a 2 in campo metteremo praticamente il doppio dei segnalini con Vorinklex in campo uno spettacolo uno spettacolo questa qua è molto forte in più è un gran bel peschino questa mi piace bella sbussata mi piace and then we have the rail 13 rail and 5 mythic rail and oh 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 my gosh today is Christmas for me happy new year happy Christmas everyone cazzo raga oggi abbiamo fatto una cosa pazzesca avevamo 11 ah si perchè è bastardo questo counter è bastardissimo perchè spoiler ha sto counter il counter delle rare delle mitiche spoiler ha io ero a 11 rare ok aprendo le 6 buste dovevo andare ovviamente a 12 ma ancora prima ah è vero non ci ho mai fatto caso ma noi da qua cioè noi prima di aprire una busta possiamo scoprire se dentro la busta c'è una jolly raga perchè io prima di aprire la busta ero a 12 no ero a 11 no forse no quando ho aperto la busta non mi ricordo se ho guardato il counter prima di aprire la busta o dopo perchè se l'ho guardato prima prima di guardarlo ero a 11 aprendo la busta giustamente si ti fa la rara qui quindi vai a 12 no forse no forse non ti spoiler in realtà ho detto una minchiata va bene ok però carino ok bella bella bello gg per me ok gg per me bella sbustatina va bene questa buona we have the land for valki here we have the land for valki devo imparare o comunque trovare un programma utile per per tagliare i video perché voglio iniziare a caricare più video su youtube solo che mi accorgo spesso che a volte parlo troppo in realtà faccio cose che non hanno che non sono inerenti al gioco tipo aprire le buste e vorrei tagliare quei pezzi lì ma non trovo di oh it's goldry dead touch ma non trovo niente per per tagliare i video in maniera decente diciamo if they go for fin we have soul shutter yeah go for the tome if they go for fin on turn 2 we can use soul shutter we go for my trident ok we need a board wipe i think this is not a board wipe but it's something just take it's something now i think i go for the untapped land because if they have fin oh god if they have fin it's a problem for us if they have fin it's not good for us and here becomes a fin there's the fin there's the fin ok we can shark for one destroy the myr trident take one poison counters they play around jaguar disruption this player it's not bad if we go for this they all of course we can use this for another creator maybe just go for just cry i think not i want a mass removal here i want a mass removal here can we use soul shutter maybe on his turn before they place something because if they have a questing beast soul shutter takes the questing beast no more counters for you sorry i think i can go for pelucranos now we need the black 2-4-5 you can try for pelucranos or maybe can draw some cards 1-2-1-2 maybe they do it for stroke if they play but if they have another fin in hands i think i go for this because if they have another fin it's four counters so it's okay he prevents the damage so i think they don't die for the death touch pelucranos i think doesn't die for the death touch effects because they prevent the damage and remove that many plus one plus one counters so i think let's see we learn something if he die we learn something okay i reason he he don't die okay oh remove three plus one plus one counters okay you go to one it's still available it's still here my turn another catria all right nice i think i go for omn of the sea now if i will passage 2-4-6 we need a passage maybe next turn yeah take the binding draw the passage and we can pass the turn i think we have three cards two cards in the graveyard i think it's nice polucranos needs six cards escape dicevo devo trovare devo trovare un programma buono per scaricare non per scaricare per che cazzo per wow double land i think not we have a gnarthless act how many cards in the graveyard we have two two three yeah i think we can block i want it bigger this is nice uh we can take red we have two red green sorry or black i think i go for green we have two no no go for black go for black 2-4-6-7 we have no t-bolt peccato i think 2-2-4 we can take jorian and pass the turn we have artless act we have ominous we have this doofus stroke we have many things what do they play artless act maya trident finn fulmer of night if they go for i think they go for call of death dweller yeah i have no the not the right counters i have the doofus stroke not the negate or jawari or other counters we can go to destroy i want to use this one two three four five one two yeah okay okay go for shadow's verdict it's okay it's my favorite mass removal go for it i don't want to use the tome because i want to blink with jorian and start to draw again they stop at three land oh they have another another fin nice and a flimmer knight of course oh we have a negate now okay of course no one two three four and five play the jorian don't need a try um almond is good we have all we want in end we have everything we want we have another shadow's verdict but it's the last i think i go for i don't know because this is i don't know guys if we attack it's uh two damage two life and four poison counters let's see okay take the juary it's nice oh hmm you can go for verdict two three land delivery uh uh yeah Sì Thanks We need a black I don't know I think Go for black Each player mills 3 cards I have to 2 targets card from graveyard Oh no 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 I don't want to exile my Polucranas and my Cling to Dust I think I'll negate this Because you want to exile my Polucranas I can have the 2 target card from graveyard No 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 I don't want to scry Or draw No I want to draw Oh sorry, Shutter is nice Shutter is nice 2, 4, 6, 8 I think I'll take this Jowire Disruption Because it's nice 1, 2 I stay with 2 lands I have 8 card 1, 2, 3, 4, 5, 6 I can try I think, why not? And we stay with 2 mana We can draw We can use Artless Act There is Doleful Stroke I think it's nice The right mana The right mana And... Ok Yeah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hi my big boy Come here please Defend me I think you can do nothing against my deck But let's see No No Don't worry Don't worry Don't worry Thanks You go to 1 Draw 2, 4, 6 2, 4, 6 I think We can just pass We can cast the Typhoon And stay with 1 mana It's not Not the best 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 But I think It's It's finished For you For 5 Good game 100% win rate This deck Is crazy Oh my gosh This deck Is So Fucking powerful Ma anche il deck Dell'avversario Raga Non è da Da sputtanare Perché è un gran bel mazzo L'ho fatto anch'io Anzi devo sistemarlo Perché Ehm Devo 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 sistemarlo Perché è un po' fatto un po' Accuus Però Interessante Questa soprattutto Each player mills 3 card Exile up to 2 target card from graveyard For each creature exile this way you gain 1 life And return target creature or land card from graveyard to your hand I mean It's not bad It's not bad It's not bad Exile up to 2 target cards from graveyard Exile up to 2 target card from graveyard It's nice against escape card Like per lucranos Or cling to dust Or cling to dust But guys This is a deck that have everything This deck have An answer for everything We have an answer for everything For everything For Or Spell with Codent maracoste 4 or greater We have removals We have destroy permanence We have escape card So we can Possiamo Mangiarci We can eat Our graveyard Maybe in matchups against rogue Uh We can Draw We can scry We can do everything with this deck We can We play planeswalker We play We play everything 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 We have everything in this deck That's the reason Because this deck is so powerful It has an answer It has an answer It has an answer for everything When you have a deck that has an answer for everything That is a powerful deck That is That is That is We have everything in this deck Absolutely everything in this deck Everything Maybe we can play Uh Boring Clex But I Think We don't need Boring Clex In this deck Because it's a control deck So I think Hmm I know It's It's cool Playing Boring Clex On turn 6 Uh On On turn Yeah On turn 6 And then Valky On turn 7 And When enters the battlefield With Boring Clex You can ultimate You can do Minus 8 And stay with Two counters It It's nice Even with Ashok You can Play Boring Clex And then Ashok You can ultimate Do minus 7 Take everything From exile And Cast without paying The mana cost It It's It's nice And then we have Polucranos If Polucranos Escape With Boring Clex On the battlefield It enters with 24 Plus 1 Plus 1 Counters On it 24 Plus 1 Plus 1 Counters It's Amazing For only 6 mana I think it's amazing A 24 24 For 6 mana Mmm I like it Mmm I like it so much I like it so much But I think the deck is nice Jaguar Disruption It's So powerful Because Jaguar Disruption È troppo forte Altarga Ehm Perché La gente Deve Giocarci attorno Cioè Non poter fare i tuoi drop a 2 A turno 2 Perché Devi girare intorno a Jaguar Disruption È una rottura di palle Raga È una rottura di palle Non c'è niente da dire È una rottura di palle Io poi ho visto anche doppia Shadows Verdict Ma penso che sarei riuscito a scamparla Anche senza doppio Verdict Mi ha messo in difficoltà Quando ha giocato Il Come si chiama Il L'1-4 Con Detach Insomma Non mi ricordo come si chiama Ma si è bloccata la carta Ok E Finn In campo Allo stesso momento Perché loro due Sono omicidiali insieme Perché non sai Quale uccidere Anche se in realtà È Per forza di cose Sei portato a uccidere Finn Perché Finn Se Le creature Riescono a farti danno E accumuli 10 Signalini Di veleno Perdi la partita Quindi Sei più portato a far fuori Finn Che L'1-4 Il Lì dovevamo parare Dovevamo scegliere se parare con Iorion Per non prendere i segnalini E perdere Iorion Oppure Far fuori Finn Che per me La cosa migliore Era fare fuori Finn In quel caso Però Doppio Shadow's Verdict Ci ha aiutato parecchio È vero Potremmo anche Potremmo anche Diocarne uno solo Però In quel caso Lui aveva due permanenti Pari E uno dispari Che era il drop a 3 Quindi Shadow's Verdict È stato molto più utile Di Extinction Event In quel caso Assolutamente Però il deck Mi piace veramente Un sacco Ragazzi Potremmo anche pensare Di rancarci Con questo Ma Vi ripeto Presto la voglia Di rancare Sinceramente Ogni tanto Mi torna Quel barlume di voglia Ma se proprio devo competere In qualcosa Voglio competere nei tornei Ci sono tantissimi siti Con tornei Ogni giorno Ci sono tornei nuovi Competitivi Se uno vuole competere Per me È meglio competere lì Poi Poi Puoi provare Ogni tanto Ad arrivare in top 1200 Però Io personalmente ho preso Un po' la voglia Di rancare Preferisco Giocare così Provare le mazze ogni giorno Mi diverto Oh It's Just Skyflyers Oh This is nice This is nice We have 2 days due For stroke I think I think We can start with Blue We need all the colors I think we start for Blue We need all the colors Because we have Blue Black And Green Ho un problema con i colori Non sono dal tonico Ma quando devo dire i colori mi viene il vuoto Non so perché Uh Ok Just pass Wow Wow It's mono white Wow Now i need a mass removal Quickly Like Event of extinction Maybe 2 lands I think Not 3 lands And a shark typhoon Nice Nice This stupid mono white Can defeat me I think they can Oh Maybe before the comeback was better Oh Jesus Fucking christ Ok Allora Lo so E che ma A parte A parte tutto scusi Ma prima di entrare in combat Non mi chiedere se voglio fare qualcosa a sto gioco Così per dire No? 1 2 3 4 I need The 4th We can shark typhoon for 2 Or we can destroy the flyers I I don't I don't Want to destroy the banner because I'm at 5 So Incredible We lose against a stupid mono white Ok I think we need more mass removal maybe Maybe One more Event of extinction maybe I don't know Losing against a stupid mono white But It's ok If we have no mass removal in this case it's difficult to win Non ho capito perché Non mi ha fatto Non mi ha chiesto di usare soul shatter prima del combat Non lo so Vabbè 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 In genere dovrebbe stopparsi E poi Farmi usare Chiedermi se vuoi usare qualcosa prima di andare in combat In teoria No? No? Ah no Forse perché quando si va al combat Si no Forse Pensavo che giocasse qualcosa ma se tu passi direttamente alla fase di combattimento si attiva già l'effetto di Della Del luminarch Vabbè 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 Ci può stare Ok Let's try Ah Ok We can We have Event of Extinction But if this is No It's giant It's giant Ok So maybeишados Verdict is useful against this deck Ok I thought it was Mono Red, no, ok, Shadows Verdict, not the best. Shadows Verdict, not the best against this deck, I know, it's ok. Ouch, 2 damage for me, 1 more, ok. Dealing 4 damage with a Saga, it's nice. Next turn I think they cast this for 2, maybe. How many Scry? 2, 4, 5 Scry. Yeah, I want both, it's nice. What do we need, the blue or the green? I think not blue, I think I want the green. Or the blue, I don't know. Just take the blue. Take the Wired Disruption, because we can. Another 2 damage and the next spell you cast, cause 2 more, 2 less to cast. 4 damage with the Saga, oh, you can reveal the same, oh, ok, sure, sure. You can reveal the same Giant, oh, ok, nice. And foretell something, when it becomes the target of a spell, you can choose 2, hmm. It's ok, because next turn if you deplay the Barrier, it deals double damage, maybe, ok, do it now, deals 2 damage, it's ok. Oh, until your next turn, oh, I think you can play this. Oh, 2, 1, 2, 3, 4. Maybe we can just go for this, because we have the Ashok Nightmare Muse, wow, we can exile this. And, you know, you're upkeeper, you do 2 damage to each opponent. Hmm. I don't know, I think we can just cling to dust, to draw. Oh. Yes, I've come here, so I think I'll go for Event of Extinction. There, so it's coming, of course. questo qua è da esigliare raga perché sennò riuscire a farlo fuori e esigliarlo dal cimitero con con cling a